Successivi alla sconfitta dei Templari per mano degli assassini, Londra conobbe la pace, fino all'autunno del terrore. Nel 1888, Londra scivolò nel panico, per via di una serie di delitti orribili e avvolti nel mistero. I bordelli di Whitechapel sembravano rifugi sicuri, se paragonati alle strade, dove le prostitute venivano mutilate e i loro corpi squartati erano esposti agli occhi del mondo. Jacob Fry è sulle tracce dell'omicida ed è deciso a mettere fine al regno di Jack lo squartatore. Muovetevi, signor Finch, questa sarà la storia del secolo. Signor Weaverbrook, so che avete altre lettere dello squartatore. Vi ho detto di lasciarmi in pace. Smettete di pubblicare le sue lettere. Avete trasformato quella pelva in una leggenda ed è esattamente quello che vuole lui. Jacob! Grazie a Dio sei qui. Lo squartatore l'ha fatto di nuovo. Gagli! Non può. No, lui non può. Bellissi. Tutte e due. In una volta sola. Nellie. Ricorda cosa ti ho detto. Ora vai. Quanti altri assassini devono morire prima che tu rieschi a vedere la verità? Solo un altro, Jack. Avresti dovuto crederci, Jacob. E ora io ti darò la caccia. So che sei lì, Jack. Il maestro dell'orrore ha paura di mostrarsi, è così? Sono la tua ombra, Jacob. Li squarterò uno dopo l'altro, se questo servirà a trovarti. Davanti, mostro! Facciamolo finito! Corri quanto vuoi, Jacob. Io ti prenderò. Devo solo fiutare il tuo odore. L'odore di una bestia ferita. Non puoi nasconderti da te. L'olivice dovrebbe avere un pozzo alle calcagne. Non puoi nasconderti da te. E me che vuoi, Jack. Allora uccidimi! Noi non agiamo così. Questo è il mio credo. Non puoi sfuggirmi. Noi non mi avete? Questo è il mio credito che è ormai. Ne ma... No, come... Ma... No. Tornatene nella tua tana, Topolino. Tornatene nella tua tana, Topolino. Vai da qualche parte, Jacob. Jack, sei malato. Non cogli l'ironia, fratello. Jack. Solo tu sai chi è lo squaltatore. Ma non lo puoi dire a nessuno perché questo distruggerebbe te e gli assassini. No, 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 no! Jack, possiamo curarti. Curare me? Io sono la cura. La storia è la mia e 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 la mia. La sciocca gemella di Jacob pensa di poter uccidere lo squartatore, eh? Il diavolo è questo posto? 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 Il guardiano aveva ordine di bruciare tutti gli effetti personali. La polizia non deve trovare le prove. Nessuno deve trovare gli oggetti appartenuti ai miei ospiti. Ecco! Oh, no. Oh, ecco il mio boia preferito. Siete con Chato? Siete con Chato? Siete con Chato? Non ci vorrà molto perché il mio capolavoro la porti qui, tra le mie braccia. Aspetto con ansia la riunione di famiglia. Cosa? Sono nato qui. Uscito dal manicomio e addestrato dal migliore. Ma poi lui mi ha tradito. Su, prova il tuo credo contro il mio. Vai da Chato! Corri, Chato! L'omicidio della madre di Chato è l'evento che ha generato lo scontatore. Ma lui incolpa mio fratello e il credo della sua morte. Che mi sta succedendo? Devo ringraziarti. È stato Jekyll. Spirato il mio capo. Su, tu, ma il tuo interno. Mi ha respirato il capo. È nella mia testa. Dov'era Jekyll mentre gli sgherri di Stanwyck scrozzavano mia madre? Dov'era mentre gli sbartevano in quel manicomio? Vieni fuori, mostro! Sto diventando pazza. Che razza di credo non protegge i suoi? Incredomore, ecco quale. Di controllo, Marti. No, pietà, pietà! Le tracce della mia identità. È il momento di far visita al mio vecchio dottore. È ora che la mia vecchia infermiera paghi per tutti i suoi amusi. Prendeteli, Mio! Polizia! 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 Oh, no. 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 Oh, no.